Vi, sempre in collegamento con lo shopping cosiddetto natalizio, per sostenere le attività commerciali, questo settore che è in grande sofferenza, e anche per aiutare le famiglie. Abbiamo deciso di far partire da subito il Piano Italia Cashless. Cosa significa? Che dall'8 dicembre prenderà via l'extra cashback di Natale, che prevede che chi paga con carte, carte anche pressoché gratuite app, avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre. Tutto, anche comprando pane, pasta, carne, oppure giocattoli per i nostri bambini, andando dal parrucchiere, andando dal dentista. Ci sarà un rimborso che potrà quindi arrivare sino a 150 euro. E questo, attenzione, non vale per la famiglia, ma per la singola persona. Quindi sarà accumulabile anche all'interno della famiglia. Abbiamo voluto, peraltro, evitare che questa misura di vantaggio fosse valida anche per gli acquisti online. Perché è un periodo questo della pandemia in cui tutti, un po' tutti, abbiamo incrementato, contribuito a incrementare gli acquisti online. Adesso, però, dobbiamo favorire gli esercizi commerciali, i negozianti, gli esercizi di prossimità. Ancora, vi ricordo che per partecipare a questo programma dovete scaricare l'app Io, identificarvi con la vostra carta di identità elettronica o Speed. Sembra molto complicato, ma vedrete che è molto semplice. Grazie.